Non è una casa, dicevo qua è un box. È un box? Sì, sì. Solamente per passare due mesi da istante e base. Quindi lei ha fatto tutto secondo le norme? Sì, io ho presentato la domanda. Però l'ha comprato come terreno agricolo? Come terreno agricolo, sì. Il colpevole numero uno della tragedia dove hanno perso la vita nove persone è l'abusivismo edilizio. A dirlo il procuratore di Termini Merese che sta indagando per disastro colposo e omicidio colposo. Molte delle villette travolte dal fango non hanno la licenza edilizia e si trovano in un'area di massimo rischio idrogeologico. Ma non sono le sole perché nel palermitano molte case che hanno ricevuto il regolare permesso a costruire si trovano in condizioni di rischio idrogeologico identiche a quelle di Casteldaccia. Una bomba ad orologeria, come ci spiega il professor Rotigliano, docente di geomorfologia e rischio idrogeologico all'Università di Palermo. Sono sicuro che se ci diamo due o tre giorni di tempo troviamo cento, mille situazioni come questa nelle quali invece non c'è una concessione edilizia. C'è un rilascio di concessioni nell'ignoranza del rischio della minaccia incombente. Se tu vai a costruire oltretutto sottoposto perché lo stiamo vedendo sotto il livello del fiume l'acqua non può fare altro che in situazioni eccezionali esondare e creare il problema che ha creato. Nel 2008 la casa di Casteldaccia, dove sono morte nove persone, era stata dichiarata abusiva ed era stato ordinato l'abbattimento. Il sindaco di Casteldaccia ha raccontato di non aver potuto procedere alla demolizione a causa di un ricorso al TAR che aveva bloccato tutto. Ricostruzione seccamente smentita dal Consiglio di Stato, secondo il quale il giudizio al TAR si è concluso da tempo. Un rimpallo di responsabilità alla vigilia del lutto cittadino per le nove vittime di Casteldaccia.